Questa è certamente una bella storia, una storia che vale la pena raccontare. Questa mattina a Palazzo Passionei, sede del rettorato di Urbino, si sono discusse le sei tesi di laurea della famiglia Bardelli. Cinque figli, quattro femmine e un maschio, assieme alla loro madre, Martin Ulzer, di 55 anni, nativa di Duisburg, in Germania. Già questo basterebbe a farne un evento eccezionale e di fatto così è stato, destando già da tempo l'interesse dei media nazionali, sia di carta e stampata estera, che di tv nazionali e locali, oltre a riviste patinate come Vanity Fair. Ma ciò che ammanta tutto di un'aurea ancora più luminosa è il percorso che è stato fatto per arrivare fin qui. Solitamente siamo abituati al cliché del ragazzo che studia fuori, magari per allontanarsi dal grembo materno e vivere le proprie esperienze fuori, a loro dire, dalla soffocante cappa di protezione genitoriale. Invece questa pagina storica dell'Ateneo Urbinate ribalta tutto. Mamma e figli hanno studiato assieme, aiutandosi e sostenendosi a vicenda, vivendo anche, cosa incredibile, nello stesso collegio universitario, con la mamma che ha addirittura fatto l'Erasmus. Assieme alle proprie figlie. E questa mattina, accompagnate anche dal papà, partito dalla loro casa di Cuveglio, in provincia di Varese, e dai fratelli, hanno varcato, tutte orgogliose e piene di gioia, il portone del rettorato. Siamo molto felici di essere qui oggi, perché è un grande traguardo, per il quale, insomma, abbiamo faticato molto. E' il papà allora che dice... Sicuramente fiero, perché abbiamo fatto una grande famiglia e non si pensava di arrivare a questo. Chiaramente, avere sei figli che si lavorano lo stesso giorno, con tua moglie, sono un po' emozionato. Noi di nostro già emozionati, ma avere la mamma che anche si laurea insieme a noi, l'emozione, non lo so, è quadruplicata. Siamo molto orgogliosi di mamma, perché per noi è faticoso, ma gestire, oltre allo studio, anche una famiglia, è stata una cosa ammirevole. Qual è stata l'emozione più forte di questa avventura? Interprendere questo cammino insieme ha aiutato tanto anche a rafforzare i nostri rapporti, a vedere che si può mantenere uniti nonostante il crescere. Dopo la discussione della tesi, pochi minuti, la commissione di laurea, presieduta dal rettore Vilberto Stocchi, ha proceduto con le proclamazioni. Mamma Martina, assieme alle figlie Sara, Michelle e Daniela, hanno conseguito la magistrale in didattica e lingue moderne. Cristina e il maschio Elia, la triennale in lingue e culture straniere. A Papa Antonio, alla fine della cerimonia, non è rimasto altro che portarsi a casa il peso della cultura, però godendosi lo spettacolo con tanta emozione di sei incoronati dall'oro. Ma non è finita qui perché il 16 marzo toccherà anche al secondo maschio di famiglia, Emanuel, 23 anni, che si laurerà nella triennale di economia e management. Anche per noi, per l'università, è un momento di grande soddisfazione. Intanto questa famiglia che parla direttamente, che ci riporta ai valori della famiglia, dell'unità, dell'impegno, della determinazione, l'università invece dal proprio lato vede la soddisfazione per queste persone che hanno scelto questa università. In effetti la facoltà di lingue negli anni si è sempre distinta per la qualità dei percorsi formativi. Siamo molto contenti.